Ciao mio caro amico aspirante 3D Profittevole, oggi è ancora venerdì 7 dicembre 2018, giorno del non farm però, dove tutti sono impauriti dal tradare di fronte a questa notizia, bene, ti faccio vedere cosa ho fatto. Ti avevo lasciato nel primo 3D Profittevole con un quick scalp short che mi ha dato solo 35 dollari di profitto, ti ripeto era un quick scalp, erano scalpe, non era un 3D. Ora ti faccio vedere il secondo 3D Profittevole dopo l'apertura, bene, questo è il market profile come vedi all'apertura, proprio a 19 secondi dell'apertura, come vedi la sessione di ieri stava in trend a rialzo, poi la sessione overnight come vedi la sessione asiatica e poi la sessione di londine stava in rialzo, poi questo è il rilascio della notizia, c'è stato un grosso spike up. Bene, ci sono importanti livelli da riferimento, soprattutto da ieri questa linea magenta tratteggiata, noi abbiamo aperto molto lontano da questa linea magenta, altri livelli importanti erano il POC sulla sessione overnight, questa linea tratteggiata nera, e poi il punto di mezzo della sessione overnight e il punto di mezzo della sessione overnight di due giorni fa. Bene, io ho posizionato 4 contratti di vendita qua, a questo livello importante, perché come vedi il mercato ha bucato il livello 27.000, va bene, e è un importante punto di rialzoamento, un importante punto psicologico. Ha rotto il massimo overnight, il massimo della sessione pilusa di ieri, e era pronto per entrare short, perché ho visto mentre il mercato saliva, con questa forte accelerazione uniforme, ho visto grossi ordini di vendita accatastati a accumularsi, vedi? Quindi ho posizionato a questo prezzo 4 ordini di vendita, il mercato me le esegue, il mio stop loss soprattutto, il mio primo target importante è un tico 2 sopra il massimo di ieri, che è proceduto da massimo overnight. Poi ho messo due target e due contratti nella distanza intermedia da questo massimo target, ok? Come vedi. Bene, il mercato è stato un pochino vipo, come vedi, questo è il market profile, l'ultimo target è, come baciava anche nel P.O.C. in sviluppo della sessione oggi pitusa. Il mercato, come vedi, là il grafico RTH, regola 3.000, 6.000, 1.000, questo è perché sono andato short, perché il rally è partito da qua giù, avvenne al rialzo, è partito da una serie di rimbalzi dall'apertura, quindi era un debole rally. Quindi c'era una grossa probabilità che il mercato andasse a ritracciare tutto questo rally. Bene, il mercato va a perdere i miei primi due contratti, a questo punto proteggo il mio profitto, spostando il mio stop loss da qui, entrare in stop profit proprio sopra un tick, sopra il C.O.T. di questa prima azienda 30 minuti. Quindi il mercato sta un po' qua e poi purtroppo mi stoppa in tre list of profit, ma poco importa perché quel che conta è chiudere la mia sessione con, come vedi poi il mercato è andato al target, ma non ci interessa perché io ho chiuso la mia sessione con 675 dollari di profitto. Quindi caro amico, se anche tu vuoi stare in questo modo con posizioni piccole, modeste o grandi, allora scrivi la tua storia adesso e mando il link sotto a questo video. L'importante è che tradi nei fusion, nei stock e nelle option, quindi nel mercato regolamentato. Caro amico, io ti auguro grossi e grazie sui corsi e profitti nella tua prossima sessione di training, ciao da amici, buon weekend e mi raccomando se vuoi cambiare per sempre e meglio il tuo training, la tua carriera da trader professionista, facendo veramente grossi profitti, consistenti giorno dopo giorno, sessione dopo sessione, mandami la tua storia adesso. Ciao, ci vediamo lunedì.